Ha proposto la sua interrogazione a risposta immediata nel question time della seduta del Consiglio regionale del 22 gennaio scorso il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino. Nell'interrogazione a risposta immediata il consigliere chiede l'utilizzo del presidio ospedaliero di Sant'Arsenio a supporto dell'attività dell'ospedale di Polla per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il presidio ospedaliero di Sant'Arsenio presto sarà a supporto dell'emergenza Covid anche nei territori di provincia, nella provincia di Salerno e nei territori di periferia come quello del Vallo di Diano. Io sono molto contento oggi dell'apertura significativa da parte del Presidente De Luca e da parte dell'Aggiunta regionale in quanto come sappiamo nel Vallo di Diano noi abbiamo l'ospedale di Polla dove è stato realizzato un reparto Covid che tra l'altro sta assolvendo in modo efficiente i compiti per i quali è stato realizzato e colgo l'occasione anche per ringraziare gli operatori, gli operatori sanitari e a pochi chilometri di distanza da Polla come sappiamo c'è la struttura ospedaliera di Sant'Arsenio rispetto alla quale la regione Campania ha già dato un'attenzione particolare impegnando anche risorse e intervenendo in modo strutturale sull'ospedale. L'auspicio è che ormai ne ho parlato un po' da tempo, ormai ne abbiamo parlato da tempo, è che proprio l'ospedale di Sant'Arsenio potesse essere utile all'emergenza Covid, magari con la realizzazione di un reparto a bassa intensità Covid, cioè per quei pazienti che necessitano di un ricovero, necessitano dell'ospedalizzazione ma non hanno particolari criticità, così come oggi dobbiamo fare in modo che, poiché il Covid non ferma le altre patologie e ovviamente anche l'ospedale di Polla purtroppo è stato rallentato, le attività ordinarie sono state drasticamente rallentate a maggior ragione perché si tratta di una struttura ospedaliera più piccola, ovviamente il tema del rischio di ritardo di alcune diagnosi è un tema non soltanto della provincia di Salerno Campano ma un tema nazionale e allora noi dobbiamo fare in modo oggi per far ripartire la nostra sanità, per far ripartire quei progetti di screening, di prevenzione, di diagnosi precoce, dobbiamo mettere in condizione le strutture ospedaliere di poter lavorare nel modo più efficace e più efficiente possibile, ecco perché ho chiesto anche che il centro vaccinale che è assolutamente utile, indispensabile e bene è stato fatto a realizzarlo anche individuare Polla come centro vaccinale a fare in modo che si potesse aprire al territorio quindi realizzando altri punti come centri vaccinali nel territorio del Vallodidiano a cominciare dall'ospedale di Sant'Arsenio. Ecco io penso che oggi ringrazio il Presidente De Luca per questa sua attenzione, per la sua particolare attenzione alle strutture di periferia perché oggi c'è un tema che è quella degli ospedali e della sanità delle periferie e devo dire anche nell'organizzazione, nel fronteggiare l'emergenza Covid tutto questo si sta realizzando quindi c'è una grande sensibilità, una grande attenzione e fortunatamente nella provincia di Sarenno c'è un lavoro eccellente che ha svolto anche con il quale ci continuiamo a confrontare il Direttore Mario Ervolino che è una persona competente, capace, che sta dando dei giusti segnali e soprattutto si è aperto a quelle che sono i bisogni e le domande di salute che vengono dai singoli territori.